Bruno Editore presenta L'obiettivo di questo corso è di aiutare il lettore a rendere sempre più limpide le sue idee e il suo mondo interiore, attraverso dei semplici esercizi e procedimenti mentali pratici. Nel corso degli anni ho verificato personalmente come, rendendo man mano più limpida la nostra mente, riusciamo a chiarificare di conseguenza anche la visione della realtà circostante e a riequilibrare le esigenze del nostro mondo interiore con gli stimoli e le richieste che ci vengono dall'esterno. Sempre più spesso incontro persone che mi dicono di vivere una vita di cui non si sentono totalmente protagoniste o che non riflette le loro aspirazioni e il loro mondo interiore, quasi che la vita non appartenesse a loro. I sogni e le aspirazioni di queste persone, il più delle volte, sembrano irraggiungibili. La loro vita appare spesso mancare di una vera e propria direzione, poiché è molto difficile per loro orientarsi nella propria confusione interiore, mentre con il passare del tempo si accresce la sensazione di non aver vissuto veramente. La maggior parte di queste persone non perde però la speranza, ma aspetta che arrivi il giorno in cui le cose cambieranno. Quanto dunque bisogna aspettare? Le cose cambieranno da sole? Quante probabilità reali ci sono che le cose cambino nella nostra vita senza il nostro effettivo intervento? È sufficiente avere il desiderio di cambiare oppure bisogna attivarsi per trovare i giusti mezzi che ci permettano il cambiamento che desideriamo? Da dove cominciare? Affinché la nostra vita prenda la direzione che desideriamo, cosa dovremmo fare? Queste, come altre domande simili, sono quelle che ho iniziato a pormi molti anni fa e che mi hanno man mano instradato allo studio e alla ricerca nel campo della crescita personale. Anche a me, come a molti altri, è capitato più di una volta nel corso della mia vita di vivere una grande confusione interiore, spesso dovuta alle circostanze e agli eventi esterni che si sono succeduti nella mia vita, come ad esempio cambiare diverse nazioni, scuole e lingue in cui studiare, i molteplici traslochi, le difficoltà economiche, un lavoro esigente e competitivo, la maternità, la crisi matrimoniale e la separazione, così come la lunga malattia e la morte di mio padre e la mia scoperta di dover affrontare un intervento molto rischioso agli occhi. In queste circostanze fare chiarezza non mi è stato semplice poiché all'epoca non avevo gli strumenti adeguati che mi portassero velocemente alla soluzione e spesso mi capitava di creare e aggiungere altra confusione proprio mentre cercavo di trovare la chiarezza interiore. Le mie emozioni si sovrapponevano alla razionalità, così come le richieste e gli stimoli del mondo esterno si sovrapponevano a quelle che io sentivo essere le mie esigenze interiori, aumentando il mio stato di confusione. Oggi, grazie agli studi e letture fatte negli anni e alle tecniche mentali acquisite, trovo con molta più facilità e semplicità l'orientamento nella mia vita personale e inoltre riesco ad aiutare in modo costante i miei clienti a fare altrettanto nel loro percorso di crescita personale. Per questo motivo desidero condividere qui, con voi, in questo corso, le tecniche e le strategie che ho provato e sperimentato, sia personalmente che con i miei clienti di Life Coaching e che hanno dato risultati efficaci e duraturi nel tempo. In un mondo esterno che si muove con un ritmo sempre più velocizzato, dove gli stimoli esterni ci bombardano continuamente, attraverso molteplici richieste di interazione e partecipazione, intellettuale ed emotiva, la confusione è di casa. L'era tecnologico-digitale in cui viviamo comporta una richiesta di flessibilità mentale molto più intensa che in passato. Telefono, mail, appuntamenti, scadenze, ritardi, imprevisti, social network, impegni e spostamenti rapidi, tutto intorno a noi spesso induce una crescente e costante sensazione di confusione interiore. Il ritmo delle nostre giornate è per lo più dettato dalle scadenze che ci sono imposte dall'esterno. Tutto questo ci fa spesso perdere il contatto con la nostra realtà interiore e sempre più di frequente ci capita di rimanere estraniati, nostalgici o disorientati di fronte alla necessità repentina di accettare o adeguarsi a una novità o a un cambiamento. Fare chiarezza mentale è un mezzo efficace per vincere la confusione dei tempi in cui viviamo e sarà presente il primo passo nella direzione di una crescita personale di segno evolutivo e positivo. Grazie alla chiarezza interiore possiamo individuare le nostre priorità, disegnare la nostra direzione personale e orientare le nostre azioni sulla via che più desideriamo, lasciandoci alle spalle il marasma e la nebbia del caos circostante. In questo corso troverai un metodo nuovo, semplice ed efficace per riordinare le tue idee e fare chiarezza dentro di te, acquisendo una qualità di vita migliore e al passo con i tempi. Le tecniche che troverai in questo corso si basano su studi, ricerche e tecniche usate nei campi della neuroscienza, della psicologia cognitiva e della programmazione neurolinguistica, oltre che naturalmente sulla mia esperienza personale. Nel primo capitolo troverai una descrizione molto semplificata di come noi ci rapportiamo al mondo esterno, introducendo, per chi ne fosse totalmente digiuno, il concetto di mappa del mondo su cui baseremo il nostro processo di chiarezza, chiamato riflessione limpida, che sarà spiegato nel dettaglio nei capitoli seguenti. Troverai anche molti esercizi pratici da eseguire e che ti aiuteranno passo dopo passo a trovare e mantenere sempre più la tua limpidezza interiore. Studia questo corso ed esegui gli esercizi secondo il tuo ritmo e contingenze personali. La chiarezza interiore, alle volte, può richiedere un tempo più lungo perché possa essere raggiunta in modo fruttuoso e permanente. Altre volte, invece, può essere immediate e risolutive e ottenute in brevissimo tempo. Una volta che ti approprierai del metodo della riflessione limpida, ti sarà facile adeguarla alle tue esigenze e ai tuoi tempi personali. Grazie a tutti.